Ciao a tutti e benvenuti. Da qui inizia Explorations, un appuntamento che vorrebbe coinvolgervi e condividere con voi alcuni percorsi, alcune ricerche, alcune esplorazioni musicali realizzate in studio suonando dal vivo insieme ai miei musicisti. Vi auguro quindi buon ascolto e buon viaggio insieme a noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.